Chiuso nel 2019 per problemi strutturali il bellissimo convento di San Panfilo, fuori le mura a spoltore, potrebbe presto tornare a nuova luce. Samani, il senatore della PD Luciano D'Alfonso, con il direttore degli affari dei culti e per l'amministrazione del fondo edifici di culto, il prefetto Fabrizio Gallo, ha voluto un sopralluogo nella chiesa assieme agli amministratori e al prefetto di Pescara. Non solo spoltore, di seguito una visita anche alla Basilica del Volto Santo di Manopello, un momento di confronto sulle chiese storiche della regione, patrimonio da tutelare. Senatore, oggi questa giornata è importante perché? Per fare in modo che il valore di questo giacimento religioso, anche di edilizia di qualità che viene dalla nostra storia, sia al centro dell'agenda delle istituzioni centrali. In questo caso siamo fortunati perché l'istituzione centrale, il ministro degli interni, la direzione generale che presidia, assiste, sorveglia, sovrintende e finanzia anche, che si chiama quella del FEC, retta dal prefetto Gallo, direttore generale, ci sta seguendo su questo dossier il prefetto di Pescara di Vincenzo, il sindaco, il sacerdote, in maniera tale che le risorse predisposte possano anche riguardare, coprire le esigenze di questa chiesa, che non è soltanto una chiesa di valore della città di Spoltore, ma è un elemento identitario della comunità della provincia e della regione Abruzzo. Il bello significa anche fare in modo che sia ben tenuto, manutenuto e così che si costruisce la garanzia per la vita futura di una comunità. Ma io direi che da questo punto di vista per le chiese e in generale i beni di proprietà del Fondo Edifici di Culto è una stagione mai vissuta in precedenza, perché accanto alle risorse del PNRR, che si attestano complessivamente intorno a 250 milioni per tutta Italia, ci sono fonti complementari di finanziamento e i fondi ordinari del Ministero dell'Interno. Cioè significa la possibilità di fare, come stiamo facendo, una programmazione ad ampio spettro su tutto il territorio nazionale che avrà il risultato, è quello che ci auguriamo, di far rivivere un giacimento culturale straordinario come la chiesa che oggi io visito per la prima volta. Questi beni hanno in realtà, oltre che a un valore culturale, religioso chiaramente, anche un valore civile perché sono l'espressione dello Stato in qualche modo laico e di diritto che oggi viviamo. Grazie a Dio viviamo.